Dire, questo è il punto vero, che spiega anche il fatto che io adopero, lo so bene, adopero i cannoni contro i passerotti, perché a un certo punto sotto i passerotti c'è poi della sostanza. Dire e accettare, non dire, accettare che quello che sembra assolutamente chiaro a tutti, cioè che non c'è più destra e sinistra, ci sono soltanto progressisti e conservatori, cioè che è cambiato il grande cleavage intorno a cui ruota il sistema politico, ma anche la cultura politica di massa, vuol dire dare per scontato che la politica non è più in grado di fare ciò per cui è nata, cioè cambiare il mondo. Vuol dire che esiste un solo modo di produrre, esiste un solo modo di vivere, del quale puoi dare un'interpretazione conservatrice e un'interpretazione progressista. E questo invece è un tema filosofico di peso, che vuol dire sono progressista di che cosa, sono conservatorio di che cosa, non te lo chiedi mai perché dai per scontato inconsapevolmente sono conservatorio o sono progressista di ciò che c'è e non ho assolutamente l'idea che il mondo possa essere diverso. E dunque, a furia di ragionare in termini di progressisti e conservatori, che è il modo, come dire, ufficiale, è il modo che è offerto come possibilità a tutti, tu sei progressista e conservatore, a furia di ragionare così la gente poi a votare non ci va più, perché capisce inconsapevolmente, senza ragionarci troppo sopra, che la politica fatta così non è più quell'attività umana grazie alla quale l'uomo e le donne sono signori del proprio destino e costruttori della propria città. Se la trovano già fatta da qualcun altro e sono limitati a insultarsi reciprocamente su problemi, dopotutto, marginali, non di sostanza, gravi per qualcuno, come no, ma mai di sostanza. Cioè, quel che c'è te lo tieni ti puoi sbizzarrire a dare un'interpretazione fantasiosa di un certo tipo o di un altro tipo. cadere in questo modo di pensare la politica, che è il modo corrente, rinunciare all'idea che la politica serve a edificare, a edificare se stessi, a edificare i rapporti, a edificare il potere, beh, vuol dire rinunciare a ciò che è stato pensato con potenza inaudita da Platone e da tutta la modernità. Che su questo, su questo si giocava, si giocava il peso del pensiero politico. Cioè, il pensiero politico è il tentativo di dare forma a delle forze politiche reali che hanno delle idee diverse su come si sta al mondo. Non sui bagni, se devono essere divisi fra i bagni delle femmine e i bagni dei maschi, oppure se deve essere un bagno unisex. Che per carità può essere una cosa importante per qualcuno, ma se pensi solo a questo, o se reagisci solo a questo, se proponi solo questo, o se ti opponi solo a questo, beh, hai perso la sostanza. E allora dentro il nichilismo ci sei eccome. Ma è un nichilismo dove qualcuno fa molti grassi affari. Cioè è un nichilismo, come dire, prodotto. Chi vi parla non è un progressista. Neanche un po'. C'è un'alternativa al conservatore progressista. Superficiale e genealogico. Superficiale e strutturale. Ecco, io suggerirei di cominciare a pensare in termini di superficiale strutturale, superficiale radicale. Non necessariamente conservatore progressista, perché al giorno d'oggi c'è ben poco da conservare, ben poco da progredire. Se c'è una parola che è finita, è la parola progresso. Chiunque a una certa età si ricorda che era il tema ricorrente del discorso pubblico degli anni 50. Fino a quel genio che inventò nelle elezioni politiche del 58 lo slogan della democrazia cristiana, progresso senza avventure, che voleva dire non facciamo il centro-sinistra, andiamo avanti come stiamo facendo adesso. Era la parola d'ordine di una società che andava in una direzione. Adesso in quale direzione stiamo andando? Ci poniamo ancora una questione di direzione? O abbiamo imparato che ce n'è soltanto una? There is no alternative. È proprio vero? Ma che razza di mondo è? Un mondo in cui non c'è alternative. In che galera siamo finiti? Ed ecco allora che mi piacerebbe sapere perché la destra che va al governo sbandierando le tesi di Trieste, dove c'era perfino Gadamer e la critica della modernità, quando è al governo invece si comporta come una normale democrazia cristiana di destra senza nemmeno l'elite politica della DC di sinistra, che è quella sì che aveva delle direzioni.